Tre falsi ciechi assoluti che percepivano la pensione di invalidità da oltre 30 anni sono stati scoperti e denunciati dalla Guardia di Finanza di Bagheria in provincia di Palermo. I tre sono stati individuati a seguito di un'analisi avviata dalle fiamme gialle della cittadina palermitana nel quadro del progetto investigativo denominato Fake Blind, con l'acquisizione degli elenchi degli invalidi riconosciuti dall'Inps e dei loro cartellini fotografici delle anagrafi comunali. Questo screening ha fatto emergere come ciechi assoluti avessero in realtà intestato auto e all'attivo infrazione al codice della strada, così come un'attiva vita sociale rilevata dai principali social network. Fra questi infatti c'era un cinquantenne di Santa Flavia che nonostante risultasse non vedente totale dal 74, oltre ad avere un profilo su Facebook con numerose foto comprovanti una vita del tutto normale, ha risultato intestatario di un'auto. Monitorato per diversi giorni dai finanzieri è stato filmato durante frequenti uscite di casa, sempre da solo, mentre passeggiava senza problemi parlando al cellulare, prestando molta attenzione al traffico cittadino. In altre occasioni è stato ripreso e fotografato mentre spazzava il cortile di casa, oppure mentre si recava dal barbiero, ovviamente in totale autonomia. Infine, in occasione di un ordinario controllo sulla regolare emissione degli scontrini all'uscita di un esercizio commerciale, il soggetto ha anche sottoscritto il verbale redatto dei finanzieri nei suoi riguardi, come cliente senza alcuna difficoltà connessa al suo presunto stato di cecità. Altra situazione approfondita dalle fiamme gialle di Bagheria ha riguardato lo strano caso di due anziani fratelli di Misilmeri, un uomo e una donna, dichiarati ciechi nell'88. L'uomo però è stato ripreso durante le sue assidue frequentazioni del bar della piazzetta e nei frequenti spostamenti verso il tabaccaio e il market, sempre da solo e senza accompagnamento. La sorella invece è stata filmata durante gli spostamenti verso la chiesa all'uscita degli alimentari, mentre portava le borse della spesa verso casa. I due falsi cechi non riscuotevano personalmente i sussidi mensili e avevano formalmente delegato al ritiro della pensione alcuni familiari. Complessivamente la truffa ha provocato allo Stato negli ultimi anni un danno per oltre 520 mila euro. I tre sono stati denunciati alla procura di Termini Merese per il reato di truffa aggravata finalizzata al conseguimento di erogazioni pubbliche.